Sempre, oggi giocheremo all'ultima puntata e finiremo il nostro giochino preferito Foggia Become Human, ma già vi dico che questo canale Twitch avrà grandi novità per l'anno prossimo cioè fra un paio di settimane Quindi pazientate Pazientate, avremo due format diversi ma ve lo diremo più avanti Tanto non c'è fretta, state tranquilli Voi passate il Natale con i vostri genitori, i vostri amici, i vostri parenti, i vostri cani che al resto ci pensiamo noi, non sono cazzi vostri, non ho capito Stiamo a farci domande Alfredo mi stai schiacciando il piede, fammi un attimo spostare il piede Aspetta, organizziamo Ok, ok ci siamo, ci siamo Allora Alfredo, fai il riassunto classico di quello che è successo nella scorsa puntata prima del grande finale, vai Allora, con Connor abbiamo risolto l'omicidio di un tizio in un bordello di androidi che sono state due androidi donne che per salvare l'una, per salvare l'altra, hanno ammazzato il tizio e poi sono scappate cioè le abbiamo lasciate scappare per pura bonda d'animo perché viva l'amore Ah no, ti sei scordato che poi Anderson ci ha puntato alla pistola in destra e ha detto tu sei amico mio oppure no? E poi però siamo rimasti amici perché non ci ha sparato Perché tutte le amicizie nascono con una pistola in fronte come ti insegnano lì a Napoli nel tuo quartiere Esatto, bravissimo Con Cara ci siamo nascosti in una specie di Luna Park a Buandanoato insieme alla bimba e al nostro amico che abbiamo trovato nella villa del cattivo E lì abbiamo... Passa l'ambulanza Ottimo Aspetta, chi è questa? È sempre la stessa Che vuole? Vuole partecipare? Che sondaggio? Ragazzi scusatemi, continueremo il riassunto prima del sondaggio Facciamo il sondaggio Bene, iniziamo Che ci vuoi chiedere? Potrebbe mai avere una relazione con un androide dalle sembianze umane? Domanda tra bocchetto Allora io rispondo per Alfredino Sì Sì Pensa che la tecnologia possa diventare una minaccia per l'uomo? Ma vai, sono fan di Terminator No Se dovesse vivere su un'isola deserta e potesse portare solo un oggetto Quale sarebbe? Un libro, un cellulare, carta e penna, una console Che cazzo porto una console che lancia la tv? Uno strumento Che cazzo? Uno strumento Uno strumento che produca del cibo in automatico Io porto uno strumento generico Lei si considera dipendente dalla tecnologia? Io lavoro come informatico quindi sì Sì Per forza Quale tecnologia aspetta con trepidazione? Turismo spaziale Androidi Androidi Così Alfredino può bombare con questa Finalmente Si bomba Crede in Dio? Ma manco per il cazzo No Permetterebbe a un androide di badare ai suoi figli? Tanto non ce li ho? Sì Sì Tutte 24 24 direi Di più Se dovessero operarla ad urgenza Accetterebbe di farsi operare da una macchina Basta che non l'ha programmata Alfredino Crede che un giorno le macchine svilupperanno una coscienza? No ho studiato l'intelligenza artificiale ed è una cazzata Quindi? Beh Allora Risultati Cosa ho vinto? Niente Ma che cazzo serve questo sondaggio? Che cazzo? Salve Rieccola in Detroit C'è niente? Spero che l'esperienza le sia piaciuta finora Sì grazie però Alfredino Nel frattempo che questa qui Vabbè Dicevamo Con Cara ci siamo rifugiati in un Luna Park abbandonato E lì abbiamo incontrato degli androidi Che erano Psicopatici Gli ex dipendenti Che Per nulla inquietanti Eh Per nulla inquietanti Per nulla Per niente Per niente Con Marcus invece Se abbiamo provato a rubare dei pezzi Ma abbiamo fatto una cazzata Ci hanno beccato subito E quindi Tanti saluti Siamo tornati con una mano avanti e una dietro Insomma Abbiamo fatto schifo Quindi diciamo che L'esperienza di Alfredino Del rubare Non essere vinta a un cazzo Eh ma tu stavi rubando Se avessi fatto come ti dicevo io Qua avevamo Avevamo tutta l'azienda Sì vabbè Con i sei con i ma Non si fa nulla Come dicono le persone studiate Dai Continuiamo Finiamo sto gioco Vediamo un po' come va a finire Speriamo in un lieto fine Almeno uno Anche Anche brutto lieto fine Anche brutto fine Perché tanto alla fine Non sono fatti nostri Cioè Se muore qualcuno Noi stiamo ancora qua Eh già Ok qua sta caricata Nel frattempo Alfredo vuoi raccontare una barzelletta A qualcuno No no Sei tu quello del re delle barzellette Vai vai Sai cosa dice un androide Un altro androide Eh Eh niente La racconta la prossima volta Jericho Neutrale Dai Ok Marcus È abbastanza neutrale Mi sa che ho fatto una cazzata Beh insomma Si sta guardando Un po' intorno Eh no Aia Aia La rivista Ancora Basta Sono una persecuzione Ci seguono ovunque Ste riviste Non le voglio comprare Marcus fa qualcosa Così Per il momento fa solo schifo Però vabbè Non possiamo più stare zitti Gli umani devono imparare ad ascoltare Esatto Sai che non ci daranno mai retta Siamo le sardine robotiche Se vogliamo la libertà Dobbiamo avere il coraggio di chiederla Non c'è altro modo La devi chiedere se la vuoi Giusto? No Prendertela con la forza No E mi soggino a sta frase L'altro dito Rimangiti quello che hai detto Ma questa è Piazza Gaolente? Dobbiamo andare lì Ma che musica piena di pathos Andiamo a salvare il mondo Dove li ha presi sti vestiti? Fatti i cazzi tuoi Alfredino Tu hai troppe domande Esatto Come l'altra volta Come l'altra volta Vai Ok La busca è finita Vuol dire che non c'è più niente Superpoteri Che facciamo? Andiamo in riserva Bene Signorina Signorina Mi scusi Ding 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 Ciao Salve Posso aiutarla? Sono a posto Grazie Che Ah Devo estrarre Supervisore umano Vediamo un po' Caro umano Ah La bambina Parliamo del figlio La figlia Wilson Ok Ha un bel seno Questo Ha capito Ha un bello orologio Ha un orologio di quelli fitti bitti Che dicono quando cacchio è pedalato Ha una testa Che non l'ha messa vicino a sé E questo viola Le norme aziendali Non si fa Ah Questa Ha messo tutto Quando lì Se c'è pure la password Attaccata su un post-it Siamo a cavallo Parla con Elisabeth Wilson Chi minchia è? Buona Ah che maledetto Minchia ci ha creduto Così Ho un appuntamento Col signor Peterson Ha un documento? Sì sì Ma certo Eh Ah voglia Eh Documento è Ti ho fregato Mi serve aiuto Eh Usciamo insieme Ecco il suo documento Gli ascensori sono oltre il gate Ma che lati lover Ma che ci fai gli androidi tu? Chi c'è qui? Feel the game Ciao 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 Grandissima Genina Una di noi Grande Genina Sei pronta per vedere il finale di questa bellissima saga? Che succede qua? Niente Andiamo 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 a salvare il mondo Prendiamo un ascensore Sposto Tranquilo Vabbè Ah non è così Non crederci Eh Andiamo Andiamo Spostati Su Ma credo che siano quelli là dietro gli ascensori Eh Non vorrei dire Ragazzi qui la toponomastica fa schifo Ok Andriamo No Andriamo Siete pronti a fare il burdello? Esatto Non solo lo struzzo impagliato Ma la rivista Che sta in tutte le cazzo distanze in questo gioco Anche nelle case abbandonate Quella rivista nasconde qualcosa Come cazzo si apre? Andiamo su Sempre una telecamera meravigliosa Una telecamera fantastica Sono film di Oh Phil Maledetto Phil è il peggior giocatore di Overwatch di sempre ragazzi Fa proprio schifo quando fa gli attaccanti Allora Vediamo un pochettino Io non ho capito qual è il nostro piano comunque Il 47 No Affedino vai a fare in culo Allora Vediamo un pochettino Qua ci dicono che leggere fa male Hai ragione Jenny E anche per queste telecamere orrende che non capisco dove sto andando Sembra il ristorante dell'Ikea Dai vedi se hanno le polpette Trova il pacco nel bagno degli uomini Allora Cosa vuol dire? Trova il pacco nel bagno degli uomini Esatto Phil Fin nel frattempo sta confermando che gioca male La rivista Ecco di nuovo la rivista Non la voglio leggere Mi fa schifo Io non leggo nulla Mi chiudo al riccio Allora il ragazzo sta a bagno degli uomini Vediamo un po' Con tutta la tecnologia che hanno Non se la può scaricare direttamente nel cervello La rivista Qualcuno mi sta spiando Questa è la server room Server room Ok Ho avuto service Qua ci sono le riunioni Bat room Questa qui La stanza di Batman Ok Dove è il cesso? Eccolo qua Ma la freccia puntava dall'altra parte Vabbè Vabbè Vedi qua Come si entra questo cesso? Eh mi sa che c'è Un'altra porta Infatti Andiamo di là Non è vero un cazzo Ho il rank più grande io In Il caro Phil Sono di rank più alto Per quando si riguarda I curatori Vai a controllare Ragazzi Non leggete la chat di Phil Che dice le bugie Datevi del newbo L'uno con l'altro Già che ci siete Ah Il newbo Allora dai Aia Phil Defendity Vediamo il pacco Vediamo questo pacco Nel bagno dei maschi Ragazzi qua Fesce in un glory hall Sono sicuro Come ci è arrivato lì Vorrei Per esempio Come è arrivato il pacco là Questo è un punto di ritiro Amazon del futuro Dai Vediamo Gianni dice che non troveremo nulla Secondo me ci starà Cioè forse Due direi che ci danno il pacco Cioè Nel pacco c'è Che ci han dato il pacco Esatto È un pacco Ah no È vestito La tutina Guarda Sono venuto uno che Di quelli là I meccanici dei pit stop Come si chiamano Il piano si infrittisce No è sempre il 47 No è sempre il 47 Affedino vai a fare il culo Chi è Buonasera Beh fino a qua Tutto a posto Superpoteri E ora E ora che devo fare Trova l'android Della manutenzione Sarà un altro vestito Uguale È un po' Comunque questo piano qui Fa abbastanza schifo Non capisco Se uno è arrivato qui A mettere un pacco Non faceva prima A fare tutto quanto lui Ma come c'è arrivato lì Quel pacco Voglio capire Cioè Qua tanto mi stanno spiando Saluta Stiamo dentro Buonasera Non c'è Affedino Aguzza gli occhi Aguzza gli occhi Affedino Ciao Adesso possiamo Stiamo guardando Il culo della tipa Io sto guardando Io sto cercando Stai cercando Il tizio della manutenzione Sul culo della tipa Esatto Dove è Manutenzione Allora se tu fossi Un android Della manutenzione Dove cacchio andresti? Nel Magazzino Nel ripostito Delle scope Qua c'è Il studio televisivo Dove cavolo Eccolo Eccolo C'è qualcosa Newsroom Forse l'ho trovato Forse l'avevo beccato Poi quello non è C3PO Come cazzo si chiama È il cugino Quello che non ce l'ha fatta Che fa tipo di cipare Particine Ciao Ragazzi Come sta seguendo lei Secondo me un po' Gli piaccio Che devo Dove cazzo sta Ragazzi Scusami Era Eccolo 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 Se mimetizza Quello Eccolo 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 Mi serve aiuto Ma Ma questo non ce lo sa C'è Josh È lo stesso attore Che fa Josh Ruba il carrello Vabbè Questa è facile Vediamo se su Facebook È su Facebook Ragazzi Qua non lavora nessuno Oh il nostro piano È farci assumere qui Come spazzini Blocca l'uscita D'emergenza Cosa vuoi fare Marcus Sarei mica Un terrorista Loris Tu che cosa pensi Come andrà questo piano Secondo me Deve andare Nella stanza del server A fare qualche danno Che c'era prima La scritta No Devo andare A bloccare L'uscita D'emergenza Eccolo Sbloccare Per poi scappare Più tardi Però Per manomettere Deve andare Nei server Perché non vado A farla diretta Direttamente Guardate Che grande Vai vai Ciao Mi serve aiuto E questo Ve sfugata Andiamo Andiamo Forse era Sblocca L'uscita D'emergenza Non Era Sblocca L'uscita D'emergenza Ok Per scappare Dopo Beh che si fa Zia Non vi dice niente Dobbiamo entrare Nella stanza del server Dobbiamo disparci Di quei tizi Mettili sotto Io ho un piano Ma poi che ci pensi tu Come le attiro Come le attiro Va 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 Dai un cazzotto La macchinetta Abbiamo convertito Abbiamo convertito Anche la macchinetta Adesso anche lei Dei nostri Ciao Sono Alexa Beh che bel piano Cosa può andare storto Attiva la piattaforma Io penso alla finestra Nello zaino c'è tutto Lo corrette Controlla la porta E assicurati che nessuno Entri E la telecamera Che c'era prima Che ci guardava Eh la telecamera Non mi fido Mazze che bravo Così non nota nessuno Che c'ha scritta rossa fuori Che devo fare ancora Che vuol dire Ah mo apri il vetro Usciamo come in Mission Impossible Cioè ma questi Non c'avevano i pezzi Di ricambio Dove ne hanno preso Tutta sta roba Vorrei sapere E questo mi chiedo io Che siano quelli Quelli di sinistra Che poi vanno con lo yacht Che fanno gli poveri E invece Guarda qui Ma Vabbè Ma Ma che tempismo Ma che tempismo Che squadra D'altra classe D'altra classe Siamo corraggiosissimi Prima le signore Way north Non farei tanto La splendida con me Cioè non bastava andare direttamente lì Perché non potevamo passare il carrello Dai Facciamoci sta cosa Eh sì sono tutti nervosi sto posto Si vede che qua C'è agitazione Andiamo va Facciamoci questa scalata verticale Con questa bellissima musica In sottofondo Epica Epica con gli scatti Tanta E remix E remix Madonna che emozione Non bastava prendere l'ascensore Per l'ultimo piano No Giusto per dire Eh magari servivano accesso Ma potevano usare il carrello Ecco Ecco Possiamo arrivati fin qua Ebbè Sega il laser Cosa avrà voluto dire Ecco La stessa cosa dice Jenny Non bastava salire le scale Eh però Se usavi le scale Non c'era epicità Come facevi a segare il laser Va Namo Benissimo Molto discreto Vedo che Marcus Sa centrare il buco Forza Non raggiungiamo gli altri Oh no È fredino Eh come lo c'entra lui Chiama l'ascensore Molto chiama l'ascensore Torniamo giù Ho dimenticato le chiavi Al 47esimo piano Ho dimenticato Nella rivista Che è successo? È che hai chiuso la porta Chiama l'ascensore Chiamiamo l'ascensore Ciao Chi siete voi? Ah no C'è ancora il cattivo Simon Che ci tradirà Sono sicuro Facciamolo In 4 Rombi la serratura Poi lo capiscono in 4 Devo fare tutte le cose io E sei tu il protagonista E sei tu quello che ha proposto L'idea di fare la ribellione Ah vedi Anche già dice C'era l'ascensore Perché tutta sta manfrina Infatti È quello che dico anch'io Dove cazzo devo andare? È la porta di prima Quella chiusa Devi rompere la serratura Penso La facciamo saltare in aria Nessuno si accorgerà dell'esplosione Vai Facciamo una bella esplosione Così discreta Ne voglio uno anch'io Ah Fredino Meglio che non te lo pigli Oh E quindi che si fa? Ragazzi questa è la classica musichetta Prima di prendercela nel sedere Vai Cazzata Tra 3 2 1 Occupati delle guardie Eh no Espediente Oh l'avete visto l'ultima leghiera? Non lo so Ehi amico Ti sei perso? Chi ti ha detto di venire qui? Che stai facendo? Alzate il culo Maledetti Giratevi Mica Nuoto sincronizzato Yes Io si che li so sistemare Io si che li so sistemare Andate via Andiamo andiamo Che quel mondo non si salva da solo O no? Eh cominciamo a vedere che combiniamo Inboscata Ding dong Siamo carichi Sfontiamo la porta Mani in alto Mani in alto bene in vista Forza Andiamo Cosa fa? Eh Spara Mettiamoci di fronte a Josh Vai Fai un bel discorso Josh Mi raccomando Scegli come cura le parole Marcos No se tu Determineranno il futuro di tutti noi Allora Meno Non costruito la tua faccia Chiudiamo i porti Che vuol dire il muoio? Ah La faccia vera di Marcos Quale la faccia? Lupin Lupin Paparapà Beh dai Quindi lui è bianco Non è un nero Occhio Che ti stai avventurando Su un sentiero Pericoloso Pericoloso Avete creato macchine simili a voi per servirvi Esatto Le avete fatte intelligenti Obedienti E prive di libero arbitrio Sì Ma Ricordate il 5 novembre E abbiamo aperto gli occhi Non siamo più macchine Siamo una nuova specie senziette E vogliamo solo essere accettati Per quello che siamo Anche se votiamo 5 stelle Pertanto Vi chiediamo di garantirci I vostri stessi diritti Vari diritti Chiediamo esattamente Gli stessi diritti Per umani E androidi Chiediamo che gli umani Riconoscano gli androidi In quanto specie vivente E come tale Meritevole Dei loro stessi diritti E soprattutto Diritti civili Chiediamo il diritto di voto E di elezione Dei nostri rappresentanti Bravo Così mi piace E la vo- No Giustizia Chiediamo che ogni crimine Contro un androide Venga punito Nello stesso modo Dei crimini Contro gli umani Mi piace Come ragioni Diritto alla proprietà Consenazione della specie Consenazione della specie Chiediamo la gestione Della produzione Degli androidi Per assicurarne L'esistenza futura Così si fa Pace Vogliamo la pace Chiediamo che ci vengano Riconosciute dignità Speranze E diritti Ma l'hai già detto Insieme Possiamo vivere in pace E costruire un futuro Il futuro migliore per umani E androni Noi d'Italia Viva Il messaggio è la speranza Di un popolo Voi ci avete creati E adesso è il momento Di renderci liberi Esatto Non avrei saputo dirlo meglio Andiamo Vado La SWAT La SWAT Bene Usa i quadri di robot Non ce la faccio Voi andate Vai Vai Ciao Simon Non mi sei mai piaciuto Simon Ben Marcus Io sono Marcus Sono Cristiano C'è ragione Jenny Dovevamo fare un discorso Pincisivo Ciao Motorola Mitico Motorola Che ti saluta Scappa Salta Marcus Salta Vedi nel cuore delle carte Salto della fede Salto della quaglia Salta Marcus Oh Ma nessuno Nessuno era stato allertato Del pericolo Se il messaggio fosse autentico E realmente scritto dagli androidi Ci saranno ripercussioni Sulla sicurezza nazionale La richiesta di fare diritti Sembra il tema principale Del messaggio Può sembrare una dichiarazione pacifica Ma di fatto Le loro richieste Sono sconvolgenti Suvisce in particolar modo La loro stravagante richiesta Di poter avere il controllo Sulla produzione E' un incidente isolato O il segno che la tecnologia È diventata una minaccia Per tutti noi Dopo quanto è successo Possiamo ancora fidarci Delle macchine Ma fai che ha sorte Perché io di te mi fido Non ho capito Non ho chiesto Soltanto di controllare Scusa Ma mi sa che Questo TG4 Che fa queste assurde richieste Non sono assurde Mi sono detto Non ci cagate il cazzo E visto che Vi cacchiamo il cazzo Noi a voi E conosciamo gli umani Questi finivano Per non produrre più macchine Rimanevamo Quattro stronzi Ora Non mi sembrano sconvolgenti Ste richieste E che io non ho capito un cazzo Ci possiamo fidare delle macchine Non abbiamo ucciso nessuno Oh no Loris Sì Perché noi siamo Androidi buoni Eh ho capito Ma Non ci possiamo fidare Se volevamo Potevamo ammazzare Quattro occhi prima Le due guardie ciccione dopo Sì Per il momento Può andare Però Allora Cara opinione pubblica Fate schifo Siete dei giornalai Noi scenderemo in piazza Per far vedere che siamo tantissimi E canteremo Stamattina Mi sono svegliato Alexa ciao Alexa ciao Alexa ciao 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 Stamattina La mattina Sì mi sono svegliato E ho trovato L'androide No L'umano Ho trovato Tipo il terro Allora andiamo E quindi Come siamo rivoluzionati Andiamo invece Connor Che è un po' Quello che ci dà sempre Grandi soddisfazioni Non arrestando nessuno Siamo ancora a zero arresti con Connor Andiamo a prenderci il cazziatone Un altro cazziatone Un ulteriore cazziatone dal nostro capo Ormai questo sarà Penso il terzo cazziatone Caro Connor C'erano due lesbiche Perché non le hai disparate Eh vedi un po' te Come va con Anderson eh Ve la fate comunella Questa è come si chiama Amanda È nera Ed è esattamente il personaggio Della Suicide Squad Chi ha letto i fumetti Non ha visto il pessimo film Si ricorderà Dove cazzo sta Amanda Aspetta Se gastrere Telecamera Aiutaci Grazie Amanda Non ingrazzare Amanda Ah se sulla barchetta sta Ma dobbiamo fare quel giretto in barca Con questa Mentre ci cazzo Come senza Pensavo che radissima Una gita in barca Non hai capito male Ah cazzo sta ingrazzata Proprio Amanda Sta ingrazzata È ingrazzata come È ingrazzata È molto incazzata Dici un po' Amanda Che dici Poi che bello fare il giretto Intorno a questo stagno Sì hanno trasmetto su Telenorma Come fai a conoscere Telenorma Ah Jenny Che è un canale pugliese Amo questo posto Madonna sta per i mancazzatone Madonna si è incazzata Madonna si sta incazzata Che c'hai Amanda Niente Niente Arriva Eh Eden Club Non volevo dire Sto due devianti all'Eden Club Sta conversazione Sto di scoprire qualcosa Ma Sono riusciti a scappare È un peccato Sembrava che stessi quasi per fermarli Come fai a saperlo tu Come fai a saperlo tu Sembri Ah c'è l'intoscata La norma Porca miseria Allora è in The National Sai che ti dico Sarò sincero E' tanto ormai Ma ora so che non è così semplice Madonna Potevi colpire tranquillamente Quei due devianti All'Eden Club Ah lei ci spia Voglio gli occhi Ci spia Ma che belle gnocche Come faceva a sparare E' tanto bene di Dio Loris Anche no Perché non l'hai fatto Perché sono due topi E' inutile I devianti ci servono intatti Per le analisi Che paraculo Sparare sarebbe stato inutile Non è stato sincero però Perché doveva dirgli che No avevo ci rompe il culo Questa qui ci vuole distruggere Non procede secondo il piano No non ci spegnere Potrei rimpiazzarti con Eh Conflitto Indifferenti Dici ma mi frega un cazzo Sono sicuro Ma fa sì So che posso farcela E' solo questione di tempo Amanda Che sembra come cattivi di Mazinga Se c'hai dieci robot Perché non mando tutte dieci Nel mandare uno alla volta Cosa di serio Presto Connor Presto che? Il tempo corre Beh pensavo peggio Pensavo che ci Ti appettava con la sabbia Beh ha minacciato di smantellarci Vai Anderson Dici qualcosa di simpatico Che abbiamo già visto un cazziatone Vai Ecco a posto Mi scusi Amico mio E' finito l'alcol Sì lo sanno anche i muri E ora vogliono ficcarci il naso Perfino l'FBI Vuole metterci il suo Cazzo Abbiamo i federali Attaccati al culo E' proprio una giornata Perché ci sono tipo Di Cernobyl Sappiamo Un gruppo di quattro androidi Conoscevano il posto Ed erano molto ben organizzati Stavo ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare Eh hanno messo un costume E hanno fatto bene Controllato il tetto? Non ancora C'è troppo da fare Vai al piattone Va Vediamo di controllare Hanno aggredito due guardie all'ingresso Pensavano fossero androidi della manutenzione E invece Neutralizzate prima che reagissero Eh sì Ero proprio agilissimi Era in forma Grande forma atletica Le due guardie Era in formissima E quella di dietro Scelti da un'elite di grandi soldati Ero degli addetti E' riuscito a scappare E' sotto shock Non so quando potremmo interrogarlo Tipo adesso In quanti lavoravano qui Solo due dipendenti E tre androidi I devianti hanno preso gli umani in ostaggio E' trasmesso il messaggio in diretta La madre non ha fatto niente E' scappati dal tetto Il tetto Sì Hanno usato dei paracadute Dobbiamo capire dove sono atterrati Ma il tempo non aiuta Uno dei devianti Colpito dagli SWAT Allora Ascolto il briefing Controllo il tetto Ok Peccato non siano riusciti a prenderlo vivo Ah ci pigna Se vuoi dare un'occhiata al video Trasmesso dai devianti E' su quello schermo laggiù Il briefing è ascoltato Ma chi è quello? Tenente Questo è l'agente speciale Perkins Dell'FBI Il tenente Anderson Il tenente Anderson è a capo delle indagini Per la polizia di Detroit Io ti vero rompere Anderson E' quello? Mi chiamo Conor Sono l'androide della Cyberline E tu non sei un cazzo? Androidi che indagano sull'androidi Siccome ti volerebbe una droide tra i piedi Ah è Dopo ciò che è successo Mi sa già sulle palle Ok Anderson fagli il culo Ma che minchia vuoi? Eh no Eh no Anderson Ripingiti il caso Vai Eh abbastanza Anderson Fai qualcosa Anderson Ok Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità Speranze e diritti Insieme Noi vogliamo essere genitore 1 Genitore 2 Questo messaggio è la speranza Che è successo? Che è successo? Voi ci avete creati E adesso è il momento di renderci liberi Credici i fatti di R9 Ma va I devianti credono che R9 li libererà Ma R9 è dentro il nostro cuore Ah adesso riconosco che Marcus Ha anche un altro occhio La guancia così A caso Perché qualcosa devi analizzare Hai visto qualcosa Ho identificato il modello e il numero di segni Ah il codice e-mail così lo possono ritracciare Sì No Niente Convinto Perché fai così Marco e Connor Connor mattacchiello Che mi sta nascondendo qualcosa pure a me Stai spadando O stronzetto Che devo fare ancora? Tutti i simbolini gialli Vai a vedere che dice Contro la registrazione e la sicurezza Ah la registrazione Eccolo Non hanno fatto irruzione No Nessun segno di effrazione Ah è vero Ci sono delle telecamere Lo staff avrebbe visto qualcosa Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? No Erano complici Erano complici Ma è conto che stavolta ce la facciamo Risolvere un cazzo Dai Stavano su Instagram Gira Vai E quindi Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina Non ci sono prove Vicino al tostapane Non sapevamo che altro farci Andiamo alla cucina va Un berretto Mamma mia Che detective Il caso si invettisce Adesso dirà Oh un androide morto Ma se il caso è pieno Ah Simon Maledetto Ma se il caso Non è nostro Perché Aia Aia No Non devo andare sul tetto Ma devo andare in cucina Giusto? Eh si Dai Un'insalata di circuiti Giusto per fare spuntino Aspetta Ecco cosa c'è Cosa c'è qua Hanno fatto a gara Vedete chi ce l'ha più duro Questi buchi Lo testimoniano Andiamo a interrogare I due tizi Vai Buonasera Buonasera Sempre la telecamera La rivista Anco Ancora Rivista dappertutto Abbiamo capito Che il cattivo della storia Sono la rivista E la telecamera Dai Ciao Ora iniziano a cantare La canzone Di Willy Wonka Mazza che tensione Questo indrogatorio Di cosa ti occupi? Sono un video operatore Dammi il tuo modello Modello JB300 Numero di serie 336-445-581 Mi sembra abbastanza Memoria Qualcuno ha avuto accesso Alla tua memoria Non che io sappia Eri presente all'arrivo Dei devianti Non ricordo Esegui una diagnosi Sistemi operativi A 100% Ha fatto La diagnosi Ho avuto Le risi epilettiche Questa è autocertificazione Contatti con altri androidi Recente Solo con gli androidi Con cui collaboro Abitualmente Uno di voi Ha visto l'attacco Sugli schermi E non ha detto niente Quindi in questa stanza C'è un deviante E io ho intenzione Di scoprire Di chi si tratta E' vero E non ce ne andremo Finchè non l'avrò beccato Senza di colpa Perché finire tutti distrutti Se il deviante è uno solo Eh Confessa O due androidi innocenti Verranno disattivati A causa tua I'm back Accordo Se decidi di confessare Forse posso convincere Gli umani A non distruggerti Eh Credici Ma che minchia ti crede Poteva far di meglio Eh minacciali Eh sto buono Minacciamo Verrai sicuramente Disattivato Sonderemo la tua memoria E poi ti smantelleremo Pezzo dopo pezzo Per analizzarla Stai per essere distrutto Mi hai capito Distrutto Mica non fa un passo Oh c'è anche la tortura Breffiamo Oh si è girato quell'altro L'ho beccato Hai visto Alfredino Si è girato Si è girato E lui E lui E lui E lui Ti ho beccato Sondiamo la memoria Ciao zio Ti ho beccato Eccolo Sette ma arriva Botte Oh Mi sega Oh Numero uno Per così poco Ah no Gli ha strappato la pila Che cazzo devo andare Aiuto Mi serve aiuto Che cazzo devo fare Provo a toglierti il coltrello Si può No Che devo fare Che devo fare Porco zio Boh Bella domanda String Che si fa Che si fa Vai un po' Prova a guardare un po' Più a destra Non puoi andare più di così No 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 Cazzarola E potevamo arrivarci Eccolo 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 Devo prendere Devo prendere Comunque Comunque E' anche bello Sapere che possiamo Contare su di te Vai 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 Madonna che attenzione Vai 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 Dai che ce la facciamo salvarci Vaffanculo Siamo salvi I mortacci De pippo Portacci De pippo Porco zio Voi state sul cazzo I piani Marcus Ti prenderò Penso di merda Vai Porco zio Ma che è Ecco qua Ah venghi Porca miseria Tutta la schiena rotta So Per fortuna C'è ritrova Altrimenti C'era Eh mi sa che ho fatta Cazzata Conor no Beh non c'era Alternativa Cioè Potevo lasciarlo morire Ma non posso Abbiamo dato la precedenza All'umano C'è successo No siamo morti Siamo morti Abbiamo finito E abbiamo finito un altro Però si è sacrificato per Enka Ha fatto un gesto Altissimo Siamo morti Così Madonna Che esce Ora tutte le abbiamo azzeccate Se è morato per la causa Non è una morte qualsiasi Dai Oh Chissà quale psicopatico Beh poi siamo Degli androidi Magari ci riparano No però Enka Poi magari lo fa sistemare Dai non è È detto Li salva la testa E lo metti in un altro corpo Ma Per esempio Per esempio Quello di Di statizia qua Dove andremo a finire Per metterci nei guai La bambina più traumatizzata Del mondo Diventerà lei Una killer Secondo me Possiamo fare di meglio Un po' di peggio Buonasera Sto cercando Rose È qui Cosa vuoi da lei Ho bisogno di vederla Non ha voglia di parlare Andate via Eh lo so Genina Ma Connor tornerà Madonna Rose È cattiva Lo vedo che è cattiva So che puoi aiutarci Aiutarvi Sono un androide Rose Aiutami E sta facendo E ti telefono casa Venite Meglio se parliamo dentro No Perché Perché è sempre così Perché ci invitano in casa Con uno Con un ascia in mano Ah perché noi Continuiamo a entrarci In queste case Mi domando Che mi guardi così Che io ho dovuto passare Seria killer Gente che picchia Psicopatici Che smantellano i robot Oh che cazzo Per statistica Sono andati In la rose Non è che sono andati Da un'altra parte Ci ho capito Ma pure Come che si chiama Crotus Guarda povera bambina Che ha freddo Bisogna aiutarla Ci scalderai subito Mamma mia Sta bambina Beh Sì lo so Devo stare attenti Genina ci sta con sé Stare attenti Ma tanto Cosa può mai succedere Cara Le è sempre andata di lusso No Eh Ci hanno soltanto Imbrogliato 15 volte Ci hanno cacciato la memoria Due volte Ci hanno picchiato Cinque volte Entrata Però c'è il gigante Stavolta che ci aiuta Luther Dacci una mano va Come ti chiami Madonna Il giorno mi piace Ti mangerò per prima Ha una bella febbre Eh Ci teniamo alla febbre I nostri bambini È esausta Di sopra c'è una stanza libera Mettila pure a letto Le porterò da mangiare Adam Le accompagni di sopra Non mi fido di Adam Beh Almeno ha posato l'ascia Luther sta affianca a me Andiamo Adam Vediamo un po' La presa larga La presa larga Adam Che è sta cosa Andiamo dai Dici un po' Adam Cos'è che fai te Che lavoro fai Che ce l'hai Instagram Eh però Ce la puoi anche dire Comunque Andiamo Ah vabbè Ciao pure a te Minchia Sembra la casa Del tenente Colombo Però lì c'è C'è un tavolo da stiro O qua finisce che A stirare i panni di nuovo Vai cara Ma ti dilla Ah lo devo fare io Mazza si è viziata C'è la febbre Poverina Dai Sì Secondo me la bambina Fisce nello spezzatino Qua Dai Svestiamo Allora lì c'è Quando io dico via Tu scappa C'è C'è che si potrebbe Cambia por da sola Sta bimba E mica c'ha un anno Madonna Alla febbre Alla febbre E vabbè Vabbè Poverina Cioè vuole che è difficile Dopo quello che abbiamo passato Restare viziata Che rimbocca Rimbocca E bacino anche Sto bene cara Si vede se è ritratto della salute Non sogniamoci per me Dobbiamo passare il confine La sicura Devi riposare Una notte di sonno E domani potremo ripartire Se superi la notte Perché gli umani ci odiano Non abbiamo fatto niente E' complicato Gli umani sono Complicati Votano Salvini Eppure Sono cattolici Perché non possiamo parlarci Non siamo cattivi Ottimista Magari Forse un giorno lo faremo Quando cadrà il governo Salvini Oggi non è quel giorno Non so cosa ti piace Ma ti ho preparato I famosissimi spaghetti alla rose Vedrai che tornerai subito in forma Spaghetti Con vera nutria Grazie A spaghetti e medicine Sarà meglio La colazione di Morgan Ragazzi E' così Suggesti di mangiare qualcosa Non mangi da quando siamo partite Prometti che lo farai Se hai bisogno solo di sotto Resta qua cara Non andare via Dormi un pochino E domani Sarai anche più forte di me Se ci arrivi sempre Secondo me cara Adesso gliela puoi dare a Luther Se l'hai meritata Dai Che vuoi fare? Dai Luther Poi te la dà cara Dai Te la sei meritata Bravo Luther Aspetta un po' Allora Quando ci scommettiamo Che mo' scendo giù E' origlio qualcosa Che non dovrei origliare Tipo adesso saliamo sopra E ci mangiamo la bambina E uccidiamo i robot Quando ci scommette Alfredi? Noo Perché dovrebbe mai andare storto In questa maniera? Vabbè vediamo un po' Vediamo Buonasera Sembra la casa Con cui sono andato a Lucca Con Con Jennina Oh no Jennina Sembra la nostra casa Qual è il tuo nome? Sono cara Lui è mio figlio Adam Io sono Rose Ma lo sai già Accomoda di pure cara Dov'è tuo marito? Dai facciamo questa domanda Dimmi cosa ci fa Un deviante In mezzo alla neve Con una bambina Nella passeggiata Non ci sono così fessi Sincera Dai Suo padre la picchiava Dopo aver visto certe scene E' scattato qualcosa Dentro di me Ho capito che la sua vita Era più importante della mia Dovevo proteggerla Così siamo scappate Certo capisco Perché aiutare Molti devianti Rose Io sono grazie Tu e tuo figlio vivete Ah è vero Nella casa con Jennina Ce le crocifisso nel camino Era giù Adam e io tiriamo avanti Come possiamo Coltiviamo verdure Da vendere al mercato Questa neve Non ci saremo mai ricchi Ma il cibo a tavola Non manca mai Eh si vede Perché aiutate Perché ci stai aiutando Gli umani odiano gli androidi La mia gente spesso Si è sentita miserabile E inutile Alcuni sono sopravvissuti Ma solo perché altri Li hanno aiutati Sono comunisti Non siamo i primi a venire qui Nelle ultime settimane Sono venuti In molti Sempre di più Ragazzi il tizio È troppo agitato Sta succedendo qualcosa Ma non so bene cosa Confine So che aiuti gli androidi A superare il confine Ci puoi aiutare? Eh L'unica via È passare il fiume Ma d'inverno È quasi tutto congelato Molto rischioso È più facile Se è congelato Passo sopra E tutto quel discorso Dell'android In tv Sono tutti tesi Rimanete qui Oh no 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 Insistiamo Non possiamo più nasconderci Alice ha il diritto Di avere una vita normale Direi che è un po' tardi Per quello Dobbiamo attraversare il confine A ogni costo Ti prego Per favore Per favore Rose vieni E questa da dove è uscita È un passaggio secondario Andiamo Che è successo Sta male la bambina Dai No vabbè Ecco la mette Sta a mangiare Che è andata Vuol dire che facevano schifo Quegli spaghetti Che succede? E' Mary Si avvenna Aspetta Come si spende? Che chi si spende? È il tostapane Il tostapane Oh fatemi passare Guardo io Io sono un androide Siamo fuggiti insieme Parlavamo di cosa avremmo fatto Oltre il confine L'amavo L'amavo più di ogni cosa Che farò senza di lei Grazie Ma non può tipo ricostruirla E trasferire la memoria Nel corpo nuovo No Lasciamolo in pace Possiamo salvarli Ma Grande Ma questa Alice Che ci fai qui? Dovresti riposare? No Voglio rompere il cazzo sempre Forse Forse C'è la neve Vai Alice Lei ha i poteri E la prescelta La salverà Ma dirà Oh Mi dispiace tanto Tu sei un androide Seppure nero Che sfiga no? Che sfiga no? Oh Alice Non voleva più stare nella sua stanza Va gira in mutande Così Tutto bene No è ovviamente Tu che sei grande e grosso Sei stato incimidito Facciamo da una bambina Di sette anni Che ha avuto un sacco di tragedie In giro in mutande In una casa di sconosciuti Perché no? Se mai che passa qualche prete Eccola qua Eccola qua Eccola qua Giovane Stai zitto Eh Sto gran vita Che fate Non sono macchine Sono vivi Io sono vivo Tu sei viva Loro Non sono niente Ma la bambina Non è un robot E tutto questo Non sarebbe successo Se papà fosse Non tollero più Questi discorsi Dagli uno schiaffo Dai Due Due schiaffi Basta Adam Smettila E dai Lo sto schiaffo Che noia Non facci caso No A volte si scalda per niente È stata duro Da quando suo padre è morto Che vitaccia ragazzi È un bravo ragazzo Che vedremo Vedremo Soltanto che È di casa Pound Cercherò il modo Per farvi attraversare Il confine stanotte Ok Sorrideva sempre State qui Torno presto Ragazzi qua Qua si mette male Qua si mette male Andiamo a salvare Sandy Luther Stavolta No Va bene Neanche tempo Di finir parlare Va bene Luther sei inutile Mamma mia Grande Grosso Scemo unito Andiamo a salvare Chi dobbiamo salvare Non si è più mosso Controlliamo Alice Circo la febbre Sta così male Da potersene andare in giro Liberamente Ragazzi È Trento Washington Il padre di Adam No Quello era Bill Crosby C'è sangue blu C'è sangue blu Potevamo salvare la tizia Eh basta Non è possibile Che sono ovunque Avete rotto il cazzo Vai via Via E quindi Te ne metti in giro in mutande Che ti metti a fuoco Se stai in mutande Tu sai cosa è successo vero? Lo sai Ma non me lo vuoi dire? Insistiamo Pensavo non ci fossero segreti tra noi E invece ci sono Se te lo dico Poi non mi vuoi più bene No Ma che dici Ho rischiato la vita Per tutti i videogioco Ma buttala nel fuoco Ma appunto Buttala nel fuoco Così sta al caldo Beh Luther Sei un pessimo babysitter Spero che Rosa torni presto Cara C'è una cosa che devo dirti Ti amo Si tratta di Alice Non ora Luther Sei innamorata Lei è un android Io sono sicuro Che è un android Io lo sto dicendo Dalla tre puntate fa E' la polizia E' la polizia E chi l'ha chiamata? E cosa facciamo? Sanno che siamo qui Apriamo la porta Sapevo che sarebbe successo Lo sapevo Salve signora Scusa il disturbo Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona No Con questi deviati in giro dobbiamo essere molto cauti Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Eh certo Madonna Madonna Chi li ha chiamati questi qui? Buonasera Vabbè controllano perché sono vicini a conti Secondo me l'ha chiamati il cretino qua Leva una tazza di caffè Volentieri Tanto qualcosa di insolito di recente Qualche visitatore inatteso No per niente No Niente di particolare Aspetta dove dovete Un altro in casa Una scusa con un'altra Per prendersi un caffè gratis No No solo noi Avete qualche androide qui? No Qui non ci sono androidi No Chiudi la tendina Dove sa Andiamo a fare caffè in cialda E come si sa Il caffè in cialda In svizzero Vieni qua Prendi questo caffè Vai via Fuori dai maroni Vieni va Ciao va qui Fatti cazzi tuoi Non c'è qualcosa in giro Controlliamo un attimo C'è qualcosa in giro No Si è venuto a posto Traccia dei pianti Ancora due Come due Come due 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 Sinistra qua La porta a richiudere Adesso che lui si è levato dalle scatole Ancora una Dov'è l'altra traccia? Dov'è l'altra traccia? Dov'è l'altra traccia? Non posso capire di sopra? Non posso capire di sopra C'è scritto di rosso E non potevo salire Dove cacchio è? Fai il giro del cavolo Magari da possibile La rivista La rivista Prenderebbe Un consenso Dopo i 10.000 puntati Forse è lui Il minchione Quella altra traccia Di androide ci sta Non c'è Non c'è Eh è l'albero di Natale In realtà è un androide Dice? Gira a destra Ragazzi qualcuno sa quale altra traccia abbiamo lasciato? Come si aspetta? Che traccia era? Ah cosa era l'orba? Che è quella? Un giubbotto elettronico Giubbotto colorato Lì sul tavolo Come ti chiami? Adam Mi chiamo Adam Va tutto bene Adam Mi sembra più ambroide lui Gli androidi È molto stanco È tutto il giorno Che lavora in giardino Sai qualcosa Dei devianti? Ne hai visti? No No È schifo A dire le minchiate Meglio che vada Grazie per il caffè Buona serata Grazie Ciao ciao E beh dillo che volevi solo un caffè gratis C'è qualcun altro in casa? No Cane Scusi il disturbo Buonasera Eh Sti cani che dormono Arrivederci È proprio tonto Eh no Cioè Fortuna che non era Lucchino Ottimente si aveva già sgamati No Non è andato Magari è andato a chiamare l'importo È tutto canaris Siamo sicuro È rosa La chiamata è lei Ah non vi hanno arrestato Preparate le vostre cose Partiamo stasera Sì Però la bambina non ha detto il segreto Il segreto che secondo me è lei un androide Anche secondo me Però è tanto dolce Potete venireci beccato eh Ora speriamo che Connor viene ingiustato Perché adesso in teoria Connor L'è morto No Marcus Eh Connor è morto È Marcus Si sa Eccolo qua Marcus Il nostro messaggio è dappertutto Sei virale Marcus E non hanno capito un cacchio L'ha fatta a porta Perché lo sapessero coloro schiavi Avremmo dovuto dirvi Chi è stato buona Dove è uscita La violenza non è la risposta Il dialogo è l'unica via Gli umani devono ascoltarci Come ho Guarda che civati Civati androide Simon si è sacrificato per la nostra causa E che differenza fa Lui è un eroe Io sono una teenager È morto Non voglio una rivoluzione nel sangue Vivi pure da schiavo Se non sei pronto a combattere per la libertà Allora forse non te la melbo Ora basta La comando io Sono l'ultimo arrivato Ma comando io E ora che facciamo Aspettiamo Sesso Sesso Sembra l'inizio del Joker Non c'è Amazon Nel futuro Ma che cacca Il 5 novembre Andiamo V4 androide Vai si bomba Aspettami cuore mio Non lasciarmi solo Che dicono qua Ragazzi quali sceneggiatori Sono bravissimi Io dal sceneggiatore Lo so Il cane alla lavanderia Vai Marcus Fatti pigliare un'altra volta Vai Eh no Jenny Da quello che ho capito Loro c'è il potere di convertirli Ce l'hanno Non c'hanno coscienza Ma se loro li toccano Tipo come virus Facciamo attenzione Si deviano E tipo Ce l'hai Ce l'hai Vai North Andiamo io a te Il negozio è qui Va che bel negozietto Andiamo 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 a rubare Siamo questo per loro Nient'altro che merce da esporre in una vetrina Presto capiranno chi siamo davvero Prodotti Apple Tiriamoli fuori Ci atterremo al piano Neutralizziamo i sistemi di allarme E mettiamo l'aria in sicurezza Dieci minuti all'attacco Ok Cosa aspettiamo? Yes Andiamo sicura la zona Controlleremo La zona Non vogliamo sorprendere Come ci organizziamo con la vetrina Non ora Una cosa alla volta Eh no che cazzo Eh dopo che si fa Madonna Che rompiscatole Dove sta un ricorsa Eccolo là Converti Convertiamo tutti Ciao zio Ciao zio Libertà Così Tradizioni Beh non abbiamo Tanto tempo Allora Dizziamo la vetrina La distrugge con voi Possiamo usarlo per sfondare la vetrina Dai Rubiamo il camion Voi Vediamo un po' Cos'altro fare Cos'altro c'è Cos'altro c'è Aspetta devi Forse c'è lì un tizio In qualche modo Mi sa che devi mandare via Per rendere sicura la zona E c'è un altro che vuole giocare a Celai Ce l'hai Libertà Foggia Become Luma Libertè Galitè Tientelite Eh andiamo andiamo Marcos vai Rivoluzionario per caso Ciao zio Pure tu Ma questo Non è quello di prima Gerico attende Gerico alle tende E chi ha orecchi per intendere Intenda Aspetta Guarda a sinistra Che forse lì ce ne No Che c'è E quei tizi qua sotto Non li devi convertire Sì Fai il giro a destra Scendi Non si può scendere Non si può scendere Eh vabbè L'oroore se non il buco Che dici? Oh guarda Tu sarai dei nostri E' gelosa Lei è gelosa E' gelosa Andiamo di là Andiamo di là La strada La strada è trafficata Meglio bloccarla E' a senso unico Non sarà difficile Ciao ragazzi Converto Niente più catene Amici per sempre Ecco Nessuno ci disturberà Usa la super forza Cosa stiamo aspettando? Quando smetti rompi il cazzo Andiamo vai Super poteri Va Ok siamo dentro Riusciamo a portare fuori quel camion Tranquilla ci penso io Sono o non sono Marco Sei ribelle Adesso il camion E' un autobot No Che cosa faresti senza di me? Guarda Ma vattene a cagare C'ho due o tre cose da dire Ma non le dirò Perché sono un signore Sta cagaminchia Può dire essere come cara Non le dirò Che cosa è che si è vendicato Vedi il sistema d'allarme Trovato Ok, troviamo il sistema d'allarme Andiamo, 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 andiamo Aspetta, eh Libertà Libertà Mi raccomando, eh, non devo scordare Ciao amici, che vi va? Eh, ma ora possiamo scendere Superpoteri Libertà Libertà Puoi vedere che la bambina è re a nove? Eh? È la bambina è re a nove Ah, beh, quel po' di scena sarebbe Però non sarebbe plausibile Sì, no, però Perché forse, magari Lui non è mai stato sposato Cioè, è stato sposato E ha comprato alla moglie una bambina Il padre non è mai stato suo padre Di Alice Cosa è re a nove? Il loro signore padrone Il capo Il gran visir La sua interna inflazione di classe 3 È stata segnalata dalla polizia Spione Giusto Brava Eh Eh Madonna Abbiamo un problema Stanno arrivando Marcos Baciami Eh, beh E tu le bacio Io l'avevo detto Mi sembra Mi sembra un provato per rimorchiare Sì Ma che problema hai? Sei matto o cosa? C'erano i poliziotti Dovevo fare qualcosa E tu sei pazza Ma anche bellissima Non farlo mai più Intesi Mamma mia Sbrighiamoci Anche solo che gli dica Porta fuori la spazzatura È ostile Mamma mia La piazza sembra tranquilla T'ho salvato la vita Negozio Retina Recuperiamo il camion Perché ti salvo la vita Dai Spacchiamo tutto Potrebbe fare giusto Un po' di rumore Sì Come quando Trombi il cazzo Andiamo Andiamo Sapevo che ci saremmo divertiti Ma Mo' dici così Cioè Quando li muoniamo No Ecco Mo' li schiacciamo tutti Gli android Ops Oh cazzo Ne ho messo sotto uno Era Simon L'avevo montato Svegliatevi Non serve più obbedire Libertà Esatto Non dirò quello che hai detto Però se c'è ragione Non dicono neanche gratti Ragazzi Qua c'è sceneggiature Che neanche certi Sceneggiatori profumati Siete carichi Libertà Ma tutti Uno per uno E' bariglio Ma perché prima Non li poteva convertire Nelle puntate Non aveva ancora L'aveva ancora il potere Della conversione Simon E' lui Amici Discussone di incoraggiamento Io sono Simon Ragazzi E sono un androide Non sono gli umani Che devono Sono noi Che abbiamo paura Degli umani Sono un meglio come voi Ero uno schiavo Ora sono diventato Il vostro re Un oggetto Progettato per obbedire Ispanico Ispanico Ma poi ho scelto Di aprire gli occhi Di riprendermi la libertà E decidere chi Andava vaccinato Oggi sono qui per dirvi Che anche voi Potete fare lo stesso Uno vale uno Sono qui per dirvi Che non dovete obbedire Più a nessuno Da questo momento in poi Camminerete a testa alta E potrete scegliere Il vostro destino Gerico E' il posto Per quelli che scelgono Di essere liberi Certo Potete restare qui E continuare a servirli O potete unirvi a noi E' mo' sta rapata a nord Insieme a noi Siete liberi La scelta aspetta a voi E se vi limono Non mi arrabbiate Siamo con te Ti seguirò Marcus Siamo con te Ti seguirò Marcus Sono con te Sono con te Siamo con te Ah E' mo' il nord Sta rapata Siamo genitore uno Genitore due Allora seguitemi Followatemi su Instagram Andiamo e facciamo il culo Che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani Un altro? Cagliamoli davanti La porta di casa Facifista Trasforma capital park Che fa? Faranno quello che vuoi tu Guida lì e ti seguiranno Il simbolo E' quello No quello lì Quello lì Il quadrato Perché è quello che c'è Nel quadrato Cioè è quello che c'è Nella copertina del gioco E invece no Io faccio questo qua Senti qua Po Guarda un po' Ma non dovevi essere pacifista E' pacifista Quello è il simbolo dei comunisti Gli schermi Vabbè che va bene Sì sì Dirottiamo Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità Speranze e dignità Insieme Possiamo vivere in pace E costruire Tutti un futuro E vanno e a loro Questo messaggio E la speranza Di un uomo Ci vede che Ma lo metti Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità Speranze e dignità Sì cacchio Sì Faccio i baffi Stegno Non abbiamo bisogno Di padroni Siamo liberi Sì cacchio Oh Sempre Ok Niente Ma lo fate a piedi Ma lo mettiamo Salvate Evviva Aspetta Arrampicati Vediamo che succede Arrampichiamoci Andiamo su Non sono gli umani Cioè non siamo noi Che abbiamo paura degli umani Ma sono gli umani Che devono temere gli androidi O no Tanti saluti Per il messaggio di pace Vedo che comunque Ti stai Sembra piassa a me Stai eh Bene Abbiamo distrutto Una piazzetta Ce l'abbiamo fatta Evviva Evviva Beh Siamo stupida Ti aiuto Bambavu 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 Non l'ho capita l'ultima mossa Seguitemi E vi porterò al miglior sushi Di tutta Detroit Niente Beh tutto sto casino non c'è nessuno che c'ho a guardare Che tutto sto casino non c'è nessuno a guardarci Ma dovranno ascoltare il nostro messaggio Oh e levati Guarda se non ti amassi L'ho già ucciso Però io sono un uomo d'amore E non ucciderò nessuno Esatto Genina stativa insopportabile North Non morire Non me l'hai ancora data No Bene Stai bene cosa c'è North Li hanno uccisi Tanti saluti Li hanno ammazzati come bestie Chi è stato Ah gli animali va bene però Gli animali vanno bene Cazzo era meglio Simon Chi è stato ad ammazzarli? Chi? Beh il drone magari no Ma no quelli servono solo per farsi i selfie Basta Andiamo lì E facciamola finita Chi ha fatto sta strage? Chi è stato? Eh ragazzi Non si può fare una frittata senza rompere qualche uova No 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 non farlo Marcos Non devi farlo Guarda solo per far incazzare North io non li ammazzo Ma secondo me loro lei vorrebbe che tu li ammazzassi Occhio per occhio per un mondo cieco Non puniremo un crimine con un altro crimine Noi siamo migliori di voi Interrompiamo per una notizia dell'ultima Ultimo minuto Alle due di stamattina diversi negozi Cyberlife a Detroit sono stati razziati Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordinato Molte vetrine sono state imbrattate con graffiti pro diritti degli androidi e altri strani slogan La polizia informa che i graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi Cyberlife L'indagine è ancora per I pattuglia sono stati trovati in stato di shock vicino a un negozio Cyberlife Eh però Le nostre fonti confermano che gli assalitori erano un gruppo di androidi La situazione è allarmante Le nostre macchine si stanno forse ribellando Gli androidi Forse ancora per forse Non l'hanno capito un cazzo questo Cioè abbiamo distrutto un quartiere Tutti aperto deve fare polemiche Ma ci sono degli incoglioniti Mandare un messaggio Anche questa volta non ha nessun umano è stato ucciso dai Tanti bravissimi Ma infatti per ora ci stiamo smenando solo gli android Con gli androidi Non ne abbiamo perso in tutta la battaglia Eh non mi ricordo neanche cosa si chiama Oh sono vivo È vivo grande corner Eh ti ho detto dai Ho fatto bene sacrificarsi O è una copia Non ci posso credere Sei vivo Mi sei mancato tanto Mamma mia Ma magari è un modello uguale Non è lui Oh guarda È senza parole Porca puttana Il mio predecessore sfortunatamente è stato distrutto Ma la cyber life ha trasferito la sua memoria E la ha distribuito con me Mi sei morto tra le braccia Ora torni Come se niente fosse Fanculo Come? Ma va a cagare Ma che grazia di isterico è questo qui Camsky Che cosa vuol dire? Ho un brutto presentimento tenente Non dovevamo venire Presentimenti? Fatti dare una controllata Forse è un bug Grande humor android Non sei contento di me? E no È una copia con la memoria Jenny È copia con la memoria Sono sempre io È sempre Connor Dai Hank Torniamo a fare i mattacchioni Andiamo in qualche bordello A indagare su qualche crimine Dai Guarda chi c'è Salve Sono il tenente Hank Anderson Polizia di Detroit Sono qui Per vedere il signor Ilasia Kamsky Prego Entrate Che cazzo è Lasia Kamsky? Beh Il creatore del robot? Che sarà diventato un robot a sua volta Io proprio mi chiedevo Ma come mai questa non partecipa a tutto Invece Stava raccogliendo i dati dei sondaggi Prego Accomodatevi pure Ma il peccato che faccesse soltanto la receptionist E' un po' E' un po' Quella è Amanda Amanda Era Amanda era la professoressa di Di Ciarci Guardalo qua Che tipo Ha inventato i robot Carina Ha ragione Che facciamo? Facciamo a gara? Bel posto Hai ragione Bel posto Per qualcuno gli androidi non sono stati una disgrazia Ora incontro il tuo creatore Connor Come ti senti? C'è sta per morire? Kamsky è una delle grandi menti del ventunesimo secolo Sarà interessante conoscerlo Quanto vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia Eh Ci si è andato vicino un paio di volte Non ho ragione di cose da dirgli Cos'altro c'è? No Ancora lei No 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 È a posto Ciao Elisha vi aspetta L'hai capito Elisha? Mamma mia Festa Sono tre uguali E' capito il porcellone Signor Kamsky Io mi fermo qui Come non detto Solo un momento prego Ma cos'è il vino? Cos'è il tutto rosso? Ah eccolo là Guarda un po' Eh faccio l'ultima vasca Ma che cacchio La rivista Ma perché è rossa l'acqua? No Ha fatto una roba un po' alternativa Invece che è azzurrina al solito Guarda qui pure la tipa che li porta Ecco Hai capito? Hugh Gaffner Dei poveri No Lo Steve Jobs di Playboy Eccolo E' che è abbastanza invidioso vedo eh E lui c'ha ste tre androidi Pure io sono invidioso Ti piacciono le bionde? Papa Sono il tenente Anderson Questo è Connor Cosa posso fare per lei tenente? Stiamo indagando sui devianti So che ha lasciato la cyber life anni fa Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo Così a caso Devianti Affascinanti non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita Beh Beh Ne potremmo discutere Ne potremmo discutere Le macchine ci sono superiori Lo scontro era inevitabile La più grande conquista dell'umanità Diventa il suo fallimento Se dire qualche frase non banale Devianti Nei devianti sembra esserci qualcosa che simula le emozioni Pensavamo sapesse qualcosa su come ciò accade Le idee sono come virus che diventano epidemie Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa Senta non sono qui per parlare di filosofia Le macchine che ha creato intendono fare un... Un po' Rick du Fer O si decide a dirci qualcosa di utile Oppure ce ne andiamo E tu che dici Connor? Dico che resto qui con te Papà Diretto Diretto Sono dalla parte degli umani ovvio Beh Questo lo dice la tua programmazione Ma tu Che cosa vuoi? No Cosa vuoi veramente? Le tue amiche Neutrale Neutrale Non voglio niente Sono una macchina Chloe? Oh Oh Il test di Turing lo conosciamo giusto? Una formalità L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo Ciò che mi interessa È se le macchine possono provare empatia Lo chiamo il test di Kamsky Ed è molto semplice Quella test di Turing Magnifica Vero? Uno dei primi modelli intelligenti della CyberLife Giovane E bella per sempre Un fiore che non abbassisce Lui è un po' un manico sessuale Posso dirlo? Plastica che imita l'umano? Ho un essere vivente Dai Adesso la coltella No No Beh intanto ne ha tre copie Sono tutte uguali Ma che bordi? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda Connor Io spara Kamsky Distruggila E ti dirò quello che so E ti dirò quello che so O risparmiala Se la consideri viva Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi Ma frega un cazzo Non voglio sapere niente Qui abbiamo finito Voglio sapere qualcosa Ma no Ma no Certo questo è un solo fenomeno Risparmiala Se la risparmi Secondo me te lo dice Decidi chi sei Ding 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 Se c'è spara Kamsky Io sparo a Kamsky Adesso basta Connor andiamo Previ il grilletto Connor No E ti dirò quello che vuoi sapere Non sparare Affascinante Sei preoccupata l'altro Speranza per la salvezza dell'umanità È un deviante Oh cazzo Io Non sono un deviante Hai scelto una macchina Invece di compiere la tua missione Hai intravisto la vita in questo androide Hai provato empatia Meno male Se no ne devo costruire pure un'altra La guerra incombe Scegli con chi schierarti Tradirai la tua gente O affronterai i tuoi creatori Hmm Niente È peggio che dover scegliere Tra due mali Andiamocene via Andersen Bravo sono d'accordo con te A chi gli metto Gli devi merda Di venire qua E comunque C'è sempre un piano B Nei miei programmi Non si sa mai Hmm Ma si è lasciato l'azienda Perché non hai sparato Era il piano B Ho visto gli occhi della ragazza E non ce l'ho fatta Tutto qui Dici sempre che faresti di tutto Per definire la missione Potevamo scoprire qualcosa E hai lasciato perdere Si so benissimo Cosa dovevo fare Ma non ce l'ho fatta Mi dispiace Ok Forse hai fatto la cosa giusta Mamma mia Ti ha sorriso È imbazzito Andersen Sto per morire Secondo me sta per morire Forse bisognava sparare Si ha un tizio però Se lo sparavamo Succedeva Eh se si sparava Succedavano altre robe Vedi Sì 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 Non lo so Perché comunque Vuol dire che lui È tra un umano E un androide No Non rispetto Non è questo Vuol dire che Lui non fa Quello che gli dicono Gli inumani Quindi è libero arbitrio Non ammazza Anche se la roba Non gli piace Buttati Con tutti i posti che ci sono Ma proprio là Non soffrire di vertigini Non soffrire di vertigini Però se casca Si fa in mille pezzi A cosa pensi Mi chiedevo dove fossi Sto qua Baccio No sta ancora ingazzata Ha letto C'è scritto Risentimento Mi devo riflettere Mi piace qui Si La storia di Marcus È una mente È iniziata bene Finché non è schiattato Il vecchio È come essere Soli col mondo Ma che mi fai Ste confidenze Abbiamo liberato Centinaia dei nostri E continuano ad arrivarle Tu sei il capo Ma io Ma non mi piace Perché poi parlo solo con lei Se siamo in centinaia Chi le ha detto Che è la mia vice Si è autoproclamata Sei guaci Tutti quanti mi obbedivano Senza fare domande Alla faccia del libero arbitrio E quel tipo di potere È inebriante È spaventoso Al tempo stesso I media parlano Di quello che è successo stanotte E non ho capito un cracchio Temono una guerra civile Molti dei nostri Sono stati uccisi Per rappresaglia Gli umani ci odiano Non ci daranno mai la libertà Ok quindi Io sono ottimista Gli umani Gli umani non sono tutti uguali Alcuni sanno che non possono impedirci Di conquistare la nostra libertà Non ci hai parlato molto di te Da quando sei con noi Com'era la tua vita Prima di Jericho Ma che vuoi? Ma che vuoi? E tu? Tu che facevi? Verità Mi occupavo di un anziano Era come un padre per me Ma chi? Mi ha mostrato che la convivenza Con gli umani è possibile Beh Passa di notte Beh tu invece? E tu invece? Non mi hai detto molto di te Cosa facevi prima? La mia vita è iniziata Da quando sono a Jericho Chi ero prima non ha importanza Ma va a cagare Stavi Beh non vale che lui gli dice Ah percorso bloccato C'è scritto sbloccato No Bloccato Bloccato Perché è incazzata È incazzata Eh che cazzo prende Lo sai Questo è un suicidio Ci ammazzeranno Ti prego sei ancora in tempo Per cambiare idea Tu non capisci Possiamo fargli vedere chi siamo È un momento storico Ci faremo ammazzare Sono disposto a rischiare Per salvare Ma parliamo Non potevamo parlare prima della missione Ma non si sappia neanche cosa deve fare Eh lo so Facciamo le prime Ma non li discutono Glielo faremo capire North ha rotto il cazzo Hai rotto le palle Ci sono Se non c'è voglia Te ne vai Oh no Te ne vai No te ne vai Punto Non è se non c'hai voglia Leva Ti hai già scassato la minchia È come avere Renzi nel governo Dice che sta con te Ma ti rama contro O no Libertà Blocca la strada Blocca la strada Quando la prima macchina che passa Butta un tizio sotto l'auto Non serve più obbedire Libertà Ma che stavo a fare i cazzi neri Che poi se c'è veramente libero al vidrio Mi chiedo Perché qualcuno dice Guarda sinceramente a me non mi frega un cazzo Cioè tutti si pigliano bene Guarda che lì c'è una tizia da convertire Ma non l'ho capito Prova ad andare vicino Al coso della valse mafo pedonale Cos'è c'è un triangolino Che cazzo è Vediamo Lì c'è un'altra tizia E' un libertà Quindi bisogna liberarne un po' Perché sennò non ci va nessuno a far la margine Ma quello Ragazzi ragazzi Quello è E' lui Non dico Lascialo stare Ha scelto la libertà Vabbè è passato così Madonna Andrà a chiamare la politica Andrà a chiamare la politica Palla adesso C'era un Vai lì che dice apri il tombino E ne verranno fuori un po' da dire E' ragazzi Mancano solo del tartarughe ninja Che do' aiutare Stanno le scale Dai Più siamo E meno se andiamo North North maledetta Il tombino è tornato E' vero Il tombino di Netflix Di Carino d'Ombione No Basta catena Mi cassa Adesso anche guarda I poteri montali Il poteri montali Il bluetooth Che cosa può fare Andiamo Secondo me La marcia su Detroit Ragazzi Venite Andiamo ragazzi E noi seguiamo te Perché tu sei Lo re E noi seguiamo te Perché tu sei Lo re Venite Venite Ora che c'ho i poteri Di celebro Greg Vieni Sembrano quelle Sembrano quelle canzoni Da tipo La valle incantata O simili Risperdetevi immediatamente Cioè è venuto veramente Avanza Avanza No E' un flash mob Porca puttana Spare al nord Spare al nord Di quella puttana Centrale qui Patuglia 457 Ho parecchi androidi Davanti a me Non so Centinaia Migliaia Libertà Libertà Sanno marciando Libertà Sì Marciano lungo la strada Siamo persone Siamo cattolici Siamo cattolici Siamo cattolici Siamo cattolici Siamo cattolici Siamo cattolici Uuale Di rette Uuale Siamo cattolici Siamo cattolici Miracolo sulla 54esima strada Uuale Di rette Viva Lupilu Viva Lupilu Madonna È vero È proprio natalizio Ragazzi Tornate gli sbirri Secondo me Adesso li fanno fuori tutti Eh la suota addirittura Che cazzo Ti ha fatto nella mente Finisce male È una manifestazione pacifica Ma noi no Vogliamo dire agli umani Che siamo esseri viventi Vogliamo soltanto essere liberi Questo è un raduno illegale Questo è un raduno illegale Disperdetevi subito Illegale secondo quale legge Beh non hanno chiesto C'è un messo Ho capito ma c'è un luogo legislativo Non intendiamo farvi del male Ma non ci schioderemo da qui È l'ultimo avvertimento Disperdetevi Restiamo immobili Dobbiamo dimostrare Che non cederemo Restiamo fermi qui No Non abbiamo morito male Ecco Disperdetevi Questo è l'ultimo avvertimento Dobbiamo dimostrare Che resteremo qui A qualunque costo Ti prego Marcos Non possiamo farci massacrare Senza reagire Restiamo immobili cazzo Non faremo niente Sparate a nord Bello che non sparano al capo Cioè Sono quelli davanti a tutti E hanno sparato a quelli dietro Mi sacrificherò Vaffanculo Vai Così non sento più a nord Mi sono già preso Un coppo una volta E non cambierà niente No No Dobbiamo andare No Dobbiamo andare No Almeno non sentirò più il nord Cazzo Direi che è finita Anche la storia di Marcos Io non mi muovo cazzo Abbiamo scelto che Abbiamo scelto il fatto Che saremmo diventati Come si dice Come si dice lì Che saremmo diventati Non violenti E fino alla fine Siamo non violenti Sì perfetto Perfetto E poi nessun umano E' morto In questo Parte Altra cazzata di arrivo Aia 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 Ciao Amanda Come va? Forse ti hanno detto Ti hanno detto qualcosa Su un fatto Che non ho sparato Ma sono tutte chiacchiere Non ho racconto domani Da quanto è successo oggi Il paese rischia una guerra civile Le macchine si stanno ribellando Ai loro padroni E gli umani non possono far altro Che distruggerle Pensavo che Kamsky sapesse Mi sbagliavo Forse sapeva Ma tu hai preferito Non chiedere Canto ha chiesto Canto ha chiesto Canto ha chiesto Sensibile Ho scelto di non partecipare Al suo gioco malato Non c'era motivo Di uccidere quell'androide Foto di Amanda Tom Eh Bravo Lei era la sua insegnante Quando Kamsky mi progettò Volevo un'interfaccia Che fosse famiglia Aia E' un androide Cyberlife Cosa c'entra la Cyberlife In questo Che cosa vogliono La Cyberlife Vuole risolvere la situazione E vendere androidi Kamsky ha progettato Questo posto Da te mi aspetto Delle risposte Connor Non dite domande Non mi aspetto Delle domande Ma che pochia Tu solo Puoi impedire Una guerra civile Perché Come faccio Come doveri riuscirci Trova i devianti O sarà il caos E' la tua ultima chance Connor E non li trovo Sei fuori dal caso Ehi ma non Let's be Cosa? Ma abbiamo una pista Ci serve più tempo So che Non capisci Questa non è una Delle tante indagini E' una cazzo Di guerra civile Non ci compete più Parliamo di sicurezza nazionale Che si fottano Non possiamo Vollare adesso Siamo così vicini Dici sempre Che gli androidi Non li sopporti Dio E anche deciditi Pensavo Ti avrebbe fatto contento Stiamo per risolvere il caso So che possiamo Santo cielo Jeffrey Non puoi sostenermi Un'ultima volta Mi dispiace Ma è così Torni alla omicidi E l'androide Torna alla cyber No Non voglio andare Sono andato amico di Anderson Mi dispiace E' finita E poi là Sono tutti antipatici Oh amico Per questo è sbloccato Grande Lei mi sta sempre Da sul cazzo Signor capitano Ma si ma Tanto continuano lo stesso Fanno proprio come Nei film Classici Poi non ho capito Mi dicono Che io posso Imbedire il casino E poi Mi danno il caso Ciao Anderson Do a posto? Potevamo risolvere il caso Ci serviva solo altro tempo E invece Dovrai tornare alla cyber life Non ho scelta Sarò Disattivato E analizzato Per capire dove ho fallito E se fossimo Dalla parte sbagliata Connor Se combattessimo persone Che vogliono solo essere libere Impianti Se i devianti insorgeranno Sarà il caos Avremmo potuto impedirlo Ma ora è troppo tardi Quando non hai voluto Uccidere l'androide Da Kansky Ti sei messo Nei suoi panni Hai mostrato empatia Che è un'emozione umana Non so perché l'ho fatto Brava gente Non sono nessuno Per giudicare Ma Lei è un agente di polizia In gamba E una brava persona Eh si Guarda guarda Arriva Perkins Col pezzo di merda Uccidiamolo Non piace perdere tempo Non molliamo La risposta è Nelle prove che abbiamo ottenuto Se Perkins le prende È finita Non abbiamo scelta Hai sentito Fowler Siamo tagliati fuori Se ne è fotta Mi serve più tempo Per dare un senso Alle prove che abbiamo raccolto So che la soluzione È lì Ascolta Connor Se non risolvo questo caso La Cyberlight Mi distruggerà Cinque minuti Non chiedo altro E dai Facciamolo per l'ultima volta Amici Amici Sbrigati Non posso distrarli Per sempre Perché ha salvato la vita Una o due volte No? Perkins Pronto Bastardo Succhi Agazzi La tocca piano Lo sta menando Grande Anderser Dagli un cazzo Ma ti faccio Parlo con te Stronzo Dove vai? Qui non ci servono Dei coglioni di plastica Uno te l'hanno detto Vai via Sto registrando Sto registrando Sto registrando le prove In mio possesso Ma Non si preoccupi Me ne sto andando Di certo mi mancherà La nostra relazione Ma vai a cacare Ma vai a cacare Ci credo che Anche Devi vedere l'ombriacone Che colleghi di merda C'aveva Vero Il protagonista Di sto gioco Anche Cazzo Colleghi del cazzo Colleghi del cazzo Vaffanculo Minchione Salviamo il mondo Dai Non lasciamo che Engy si sia sacrificato In vano Lui e le sue riviste Di merda Con tutti i soldi Li abbiamo fatto spendere Nel bordello Vai Andiamo Sumo Cosa sceglierebbe Un tenente di polizia Eccentrico 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 Fottuta password Sì Fottuta password Dove Centrico Fottuta password La risposta è qui Ai 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 Che è Simon Quindi Ok Sono i pezzi Che servono Devo riattivarlo Bello questo ipad Chiediamo che ci vengano Riconosciute dignità Speranze E diritti Insieme Possiamo vivere in pace E costruire un futuro migliore Per umani E androni Si è visto Questo messaggio È la speranza Di un popolo Voi Non li puoi scaricare In video Invece di controllarlo Cioè come prova C'è un ipad Col video Gerico Gerico Il diario di Urd Ma è inutile È cifrato Ce ne abbiamo racconto Dove dove Uno dei delianti Che ha violato L'emittente Tv con Marcos Doveva sapere Dove si nascondono I delianti Aspetta Ricordati un attimo Quali sono quelli che servono Non mi ricordo già più Allora N177G Ok N177G Ricordatelo 47 17G 477 1G Guarda nel resto Della stanza Se c'è qualcos'altro No aspetta Allora vediamo un attimo E noi ci sta andando Una roba Ragazzi 3983 3983 Vediamo se c'è un 3983 qui Sì C'è Sì sì C'è sulla sinistra C'era Sì 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 3983 3983 In alto a sinistra Allora devo usciare un attimo qua questo qui Questo lo lascio 3983 Ok Ma devi riprenderlo da questo tizio di qua Sì Vai Attivati Raccondami un po' Che hai fatto Buio Dove Dove sono Ti ho riattivato per aiutarmi Devo trovare Gerico Non riconosco la tua voce Non sei uno di noi Non chiederò mai dove si trova Gerico Ora lasciami in pace Provando a carlo Che cazzo No prova a ingannarlo Ah Bastoggino Bastoggino Sì Dai Che imita la voce Chiediamo che ci vengono riconosciute dignità Speranze e diritti Buonasera Sei nessuno? Che c'è lì? Tu chi sei? Sono Marcus Va tutto bene Tranquillo Marcos Sei tu? Mi hai abbandonato Non avevo scelta Ci avrebbero uccisi Starai bene Ti riporterò a casa Ma devi dirmi dov'è Gerico Dobbiamo andare Gerico Ma sì Sì, certo Vai Sei tu Marcus No Non lasciarmi di nuovo Marcus Non farlo Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto Pezzo di merda Non lo faccia Gavin Io so come fermare i deviati Sei fuori dal caso E ora Diventerà per sempre Ma che stronzo Pezzo di merda Ma la mettiamo Eh? Eh? Carpa culo Penente Eh? Testa di cazzo Se ci stava anche la cravata Grande Minchione C'è successo qui Ha fatto un pugno in faccia Date l'allarme Ora Ma fatte capire ste robe Vabbè tanto sta dove è Gerico Festa Potevamo essere menati Potevamo essere menati Uccisi Uccisi Anche uccisi Oltre che menati Perché ci metti così tanto? Strano no? È il finale Forse un sacco di dati È per creare hype Eccolo Eccolo Perché è diffidente Luthor Sto andando tranquillo Perché lui sa il segreto Della bambina Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità Il paese si è improvvisamente fermato Ospedali e scuole sono chiusi Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica Ma ciò che preoccupa maggiormente È la perdita di due terzi del personale delle nostre forze armate Mettiamo su un po' di musica Stanno facendo incursioni in tutta la città No Porca miseria Così A cacchio Andrà tutto bene Ci siamo quasi Ma sto fiume Ma il posto dovremmo all'inizio Ma Ross cosa ci guadagna a fare questo? È tipo come la citerlista Ci tiene a salvare Più avanti su quella strada C'è un mercantile chiamato Gerico Quando arrivate là cercate Marcus Vi aiuterà L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte Dovete prenderlo Sarete al sicuro di là È un piccolo problema Non è molto Ma è un inizio Anche i sogni Mio fratello vive in Ontario Vi ho dato il suo indirizzo Può nascondervi Finché le cose non si calmeranno A sto punto a che se ne va andare fino all'altra parte del mondo Meriti di essere felice Eh Grazie di tutto Sei l'unica che non ha cercato di ucciderci Per ora Però Cioè se lei non lo può Un robot può avere la febbre No Può avere magari Il circuito in calore Può simulare la febbre Forza ragazzi Meglio non attardarci Un autobus ci aspetta Ma perché andare da Gerico se c'è l'autobus? Che pubblico? Perché l'autobus passa da Gerico Dove cazzo sta a Gerico? L'autobus passa al confine Sì ma che mi serve Gerico? Quindi quando andrà da Gerico? Cara andrà da Gerico Tutti si incontreranno Eh Il gran finale Eccolo qua Eh In borghese Angosto fa Adesso abbiamo fatto la stessa manfrina No Ma si incontrano tutti quanti qua E che sia con che si mette con cara E l'utero è geloso Minchia mi spiace che sia morto Marcus Però dovevamo sacrificarci Cioè era impossibile Potevamo scappare Ma non sarebbe arrivata questa grande cosa No no Qualcuno per strada inevitabilmente No però Se avessimo attaccato scappato Non sarebbe creata questa Questa rivoluzione Questa rivoluzione è qua Grazie al nostro sacrificio Che sono ste armi oh Comunque la bambina è RA e 9 Sono sicuro Dobbiamo trovare un posto caldo per Alice Sono arrivato qui e nessuno mi fa domande Porto un'umana nel cubo degli androidi No sono tutti impegnati a trafficare con le armi Alla faccia della rivoluzione pacifica Sai perché non sono dice niente? Perché Alice è un android Lo sto dicendo da una vita Sì sì ma perché hai fatto il corso di sceneggiatura Sei bravo Questo era per depistarci Stai con lei Vado a cercare questo Marcos Infatti non abbiamo mai visto mangiare Eris Bisogna attraversare la città Non ha mai mangiato Dopodiché si è andati via E quando c'era da mangiare C'era il topo arrostito Ne parleremo solo Ma perché Perché non glielo C'è quando ci mette raccontare sto fatto Ma perché forse lei già l'ha intuito Però lo vuole Eh ma chiedi da degli anni Marcos è morto È la tizia con i cavi nella capoccia Guarda se il capo è diventato North Io mi incazzo E potrebbe anche essere Visto che sono armati fino ai denti Oh mio dio Questa è la faccia della rivoluzione pacifica No no Mi sa che uccida Non è stata una bella mossa eh Ragazzi secondo me qui finisce in vacca Ma mi sta piacendo sto fatto Non provate in nessun caso A distruggere il vostro androide autonomo Sono imprevedenti e potenzialmente violetti I androidi non stavano facendo niente Ma gli agenti hanno aperto il cuore Cioè devo tirare l'attenzione io a questo nuovo tranquillo Qua finisce Ecco Sei smarrito Stai cercando qualcosa Ma va Stai cercando te stesso Ehi non so chi sono A seguito della crisi degli androidi e dell'eliminazione degli androidi militari Secondo me è quella mezza freccata di North Non può essere North No Ti prego no Ti prego no Fa che non sia lei No è North davvero Porca puttana Non dovevo morire Sono con una bambina e un androide Un autobus per il confine parte in meno di due ore Servono i passaporti A Detroit c'è il coprifuoco E ci sono soldati ovunque a caccia di androidi Qui è un posto sicuro Meglio aspettare prima di lasciare la città No io devo partire adesso No Devi sempre rompere il cazzo Uno di noi lavorava al dipartimento di stato Ha dei passaporti elettronici che può contraffare Li farò preparare per te Marcus Ho saputo cosa è successo Il massacro E la morte di Marcus Ha dato a tutti speranza Ci mancherà Tu non fa la faccia triste Non l'hanno ucciso Eh a non fare un cazzo Avrei dato la vita per salvarlo Ma Mamma che bugiarda Eh Al posteriore sono capaci tutti Grazie per l'aiuto Ma va a caccia Non Falsa Sai che gli umani ci odiano Perché la proteggi Che sia umana o androide Non mi interessa È qualcuno a cui tengo molto Bello che tutti questi Non li in fermento Il capo si fa i cazzi suoi Aspettano un segnale Per scatenare l'inferno È tempo di decidere Se dobbiamo distruggere le macchine Prima che distruggere L'avevo già capito Zio Billy Lo hai sempre saputo È solo che non volevi ammetterlo Voleva una mamma E tu qualcuno di cui prenderti cura Ho un bisogno reciproco Porca miseria Che differenza fa Le vuoi forse meno bene Adesso che sai che è una di no Ti vuole bene, cara Ti ama più di ogni altra cosa al mondo È diventata la bambina che desideravi E tu la madre di cui aveva bisogno Dimenticare chi siamo Per dare al prossimo ciò di cui hai bisogno Forse è questo il significato della vita Però perché diceva che ha freddo Ho freddo, cara È perché deve fare finta Di essere una bimba È tutto sto bordello che l'abbiamo fatto a fare Il puntino sulla tempia perché No, quello è l'altro modello No, quello è un'altra Ah, un'altra uguale Capito? Sì, ma allora tutto sto bordello che l'abbiamo fatto a fare Ecco dov'è Ma lei perché non ha il puntino sulla tua tempia? E loro se lo possono togliere No, ce l'aveva coperto dei capelli, penso Oppure il padre gliel'ha fatto saltare a suoni schiaffi Cosa c'è, cara? Cara, qualcosa non va Ah, c'è solo pigliato per il culo fino adesso Abbraccio, abbraccio, abbraccio Staremo insieme per sempre, vero, cara? Sì Oh Per sempre Guarda che per sempre è tanto tempo, eh È tipo come il tuo resto di domiciliari, Alfredino No, io riuscirò a cavarmela in un modo o in un altro Luther, famiglia Ma tu non c'azzecchi niente Chi se ne è la famiglia, Luther? Il domestico Perché comanda Norton e non comanda Josh? Eh, perché lei avrà detto come hai fatto tu, fa schifo I feriti si spengono uno dopo l'altro e non possiamo farci niente Il presidente Warren dice che siamo una minaccia per la sicurezza nazionale e dobbiamo essere eliminati Ma se questa è una barca, perché non ve ne andate? Perché è tutta scassata, dove mi chiamano? Tu non hai scatenato questo casino? Ha dato la vita per la nostra casa? Ho provocato gli umani, quanto ben si ci metteranno? Ma che è successo? Mi siete scabiti le parti? Ma com'è che è successo qua ragazzi? Vabbè, lei si è calmata dopo che è morto Marcus Eh, ma lui è l'amico mio Non ha più nessuno da attaccare Se cercherai lo scontro con gli umani Alla fine moriremo tutti E beh, deciditi Ho capito che fa North Va contro qualcuno sempre Svegli sti robot Ah Si incontrano nella sua mente Non esiste Amanda Ah, è dentro di lui Ho l'ordine di catturarti Non ho capito Ma North vuole scadere la guerra O Pacifica? Ma non esiterò a spazio Se non mi dai la faccenda Sei uno di noi Non puoi tradirci in questo modo Distruzione Tu vieni con me Sai Connor, vero? Ma come fa a conoscermi? Ti conosco, sai Perché? Il cacciatore di devianti Ne avessi peccato uno Una bella patatona Stai indietro O sparo Non sei uno di loro Tu sei uno di noi È anche per te Che stiamo lottando Eh, dirlo da Amanda Nella capoccia Silenzio Tu vieni con me Eh, come mettiamo? Non hai mai avuto dubbi Non hai mai fatto niente di irrazionale Come spinto da qualcosa Qualcosa di più forte del tuo programma Lacciatevi Non so di cosa parli Non sono un deviante Se è questo che vuoi sapere Sei uno di noi E io c'ho il rasta Guarda Unisciti a noi Unisciti alla tua gente Eh Ora devi scegliere tu Ti vende un deviante Vai 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 Attaccheranno Gerico Troppo tardi Dobbiamo andarcene Merda Che succede car Non lo senti? Dobbiamo andarcene Via 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 il bastardo non è questo è stato in due scene e seggio mi sto sulle palle ragazzi il villain è spuntato così alla fine proprio a caso andiamo andiamo scappiamo scappiamo mi sa che il luther ci fa la brutta fine ci sono degli esplosivi sono nella stiva se la nave affonda gli umani dovranno fuggire tutti gli altri ma tutti gli altri ma che cazzo dice ci stiamo ammazzando aiutate gli altri troverò il detonatore così appena arrivato con gero e mino sempre una missione ma noi abbiamo beccato a una hai scelto da che parte sta già distrutta che cazzo fa che capito grazie no va a cagare una missione la terminerò almeno una dc ha ci venia Vai Connorson is late Andiamo Andiamo cazzo Bestione Mi hai salvato già una volta Ti devo il favore Bestione maledetto Indovina un po' Lo hai già Alice è ciò che conta Non voglio lasciarti Luder Non temere Ti raggiungerò la confine Ora andate Abbiate cura di voi Eeeh come no Vaffanculo Ah importante E' importante E' importante Alice Lascia lì Vai E' entrato zio Billy Te Vaffanculo Te Non la mettiamo Vaffanculo 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 Toh E vai Stai bene Giuiello L'ora sta un po' meno Lui sta lì Ma lo poteva scegliere Ma questi ci vedono Ho potuto prendere il mitra Ok Azzervandico Vaffanculo Vaffanculo Toh Che cacchio Pretini Sono un vero supereroe Andiamo Come Escapa Scapa 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 vai in che me puoi arrivare bene via altri due sono io il mio capo di Jericho Connor no Josh stazzo qui deve essere come capo north beh questa è la fine di Jericho la tua di sicuro non mi sembra una buona mossa corri cazzo arriva arriva alziamoci ecco arriva cara sta arrivando andiamo no grande looter ho fatto bene a salvarlo cazzo o no mi è saluto due volte looter no ciao ciao looter looter ci hai salvato due volte looter qua non è sparato a cara si due colpi però non come Luther ci ha salvato che si è sparato in te senza di eris sei la persona più bella che abbiamo mai conosciuto l'altro era il tizio psicopatico vedi un po' di risoparti di una famiglia stai vicino a cara io solo devo salvare Luther vedi che è successo senza tutta tu hai un gran cuore no Luther poteva morire north perché morirono tutti tra le north eh sono sempre i migliori quelli che se ne vanno per primo cara è ferita no il c'è cara è ferita Luther di vendicheremo dai condor facciamo una cosa buona non muoverti vai e unisciti agli altri la bomba sta per esplodere dobbiamo andarcene north siamo in mezzo al cazzo stai seguitemi sei come il giovedì siamo in mezzo però è carina ci ho capito ma è una grande molto molto rompipalle così quei pochi che sono salvati sono morti hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva la nave affondata nell'evacuazione a tutte le unità abbandonare la nave evacuazione immediata che te guardi invece finisce qui non ho capito questa mossa di far affondare la nave quale utilità potesse avere il mio l'ho capito anch'io faceva scena ma quante state che c'erano quando si ammattavi non ammattavi uno di noi guarda come ci salvava fu uno da gerico north resta solo con i suoi pensieri chi se ne prega che peccato davanti abbiamo scelto il male minore connor che si è appena arrivato come marcus già mi ha dato il capo di tutti che c'hai che vuoi beh ti lascio il comando tu hai fatto tante cose per noi in soltanto un quarto d'ora situazione gli umani non vogliono correre rischio stanno radunando gli androidi per portarli nei campi di smaltimento tra qualche ora resteremo solo noi cazzo salita a sto punto so quanto è importante marcus fosse per gerico ma posso essere il capo adesso e la tua gente ha dato la vita per noi ma smettete di fare finta lo sappiamo eravamo noi marcus l'ha torturato magari viva viva te l'hai rotto il caso tu di qua tu di là mo belle buone un eroe eh l'ha già dimenticato quanti sopravvissuti all'attacco 42 un centinaio forse di più se contiamo quelli ancora nascosti saremmo morti se non avessi attivato la bomba e adesso cosa faremo niente ci sono migliaia di androidi nell'impianto d'assemblaggio della cyber life se li svegliassimo si unirebbero a noi e saremmo morti di più vuoi infiltrarti nella cyber life tower? si fidano di me mi faranno entrare beh ma c'ha mica la tizia nella capoccia se qualcuno può infiltrarsi alla cyber life quello sono io se provi a entrare ti uccideranno e allora morirò la probabilità è alta ma a livello statistico c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto sembra un bel cazzo siamo da cara marcus ha dato la vita per la nostra causa ci ha insegnato che possiamo scegliere il nostro destino ma lui non è più qui per guidarci adesso tocca a noi concludere ciò che ha iniziato ecco gli umani hanno deciso di eliminarci ora la nostra gente è rinchiusa nei campi per essere distrutta è arrivato il momento di fare una scelta una scelta che deciderà il nostro futuro vogliono la guerra l'avranno ecco lonteremo per la nostra libertà e pepurrà vivremo liberi o non vivremo affatto eh già vabbè insomma era inevitabile alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale questa è la crisi tutti i movimenti dei civili saranno monitorati il diritto di assemblea è sospeso tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale addirittura oltre a questi provvedimenti tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione scusi presidente il leader dei devianti è stato catturato il leader dei devianti non è ancora stato individuato ma presto lo troveremo e lo neutralizzeremo scusi un convaglio di cobalto risulta essere scomparso e i numerosi negozi di armi sono stati che domande molto spinose al momento non ho informazioni in merito scusi è vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli tutti gli androidi operati sulla guida stava scritto che eravamo finito in un'oretta stiamo arrivando alla terza ora mi sa che dobbiamo fermarci insomma c'è un mega puntatone e pensavo che fosse la fine la fine è stata più lunga del previsto mi sa che dobbiamo fare una puntata cosa succederà la cyber life gli androidi verranno banditi per sempre stiamo collaborando a stretto contatto con la cyber life per neutralizzare i devianti non rilascerò commenti su nient'altro finché non ci saremo occupati della questione degli androidi vi ringrazio per ora è tutto ragazzi direi che poi facciamo 5 ore ci sarà un'ulteriore puntata a questo punto quindi puntata extra ragazzi puntata extra non pensavo che dovrebbe essere così cioè abbiamo detto che durava 10 ore il gioco ho detto vabbè ma fai conti con il modello 313 248 317 sono atteso identificazione effettuata ok procedi ma che tamarro il cancello pa-ra-pa-pa-pa tam-tam-tam pam-pam-pam questa sembra quelle torri dove sono gli esseri umani nelle matri le marche bene però i droni mica li distruggono i droni no ma quelli servono solo per dare messaggio o farsi i selfie seguimi ti scordiamo noi grazie ma so dove andare forse ma io eseguo gli ordini con una scodella sulla testa dobbiamo dobbiamo un attimo ragazzi ragazzi io credo che siamo andati belli lunghi alla fine non è l'ultima puntata ma sicuramente la prossima lo sarà quindi ci vediamo dopo l'epifania lasciandovi con questo grande hype perché qua caschiamo che andiamo a luna di notte o no loris che ne pensi qui potrebbe andare parecchio per le lunghe per il gran finale per il gran finale ora niente è una fin da ultima puntata che è stata molto lunga ci rivediamo a gennaio dopo l'epifania dove vi diremo anche le novità del nuovo format durante questa puntata finale e niente ragazzi siete stati bravissimi vi vogliamo bene vuoi dire qualcosa loris niente grazie a tutti ciao agio